Non vedo a oggi nessuna conclusione che dica ci vuole una manovra, sto dicendo attenzione anche a raccontare che noi siamo a posto, che siamo usciti dal rischio di precipizio, tuttavia abbiamo ancora una serie di problemi. Io dico poi se c'è qualche margine sappiamo dove metterlo, sappiamo dove metterlo, sappiamo un sacco di posti, insomma i margini, sognando che ci fosse qualche margine, prima di tutto bisogna abbassare un po' la pressione fiscale a partire, secondo i margini che hai, a partire dal lavoro, dalle pensioni, dall'IRP sui redditi più bassi, perché i consumi sono stremati in questo momento e l'altro margine devi usarlo per fare un po' di investimenti e per aiutare gli investimenti di chi dà lavoro, credo che sia evidente che noi abbiamo questa doppia priorità.